E viene fermato il difensore del calcio cavallo Qui poi calcia e scheggia la traversa il numero 11 del Gloriava Prima vera occasione di questa partita Poi ci riprova anche di testa, palla, carino al numero 9 Dribbling di Arco, fine in fondo Arco La ci prova col destro che è parata da parte del portiere Gatta Che tiene ancora il risultato sullo 0-0 Arco viene servito, può andare il numero 9 Col sinistro, ancora Gatta, bravissimo Poi Pasciullo, dribbling, Pasciullo In qualche modo riesce la difesa del Gloriava ad evitare l'1-0 Bertinelli, affrontato da Salome che conquista pallone Conquista palla, che io scusa Arco, punta, va sul destro Arco! Questa volta sì, che trova l'1-0 il numero 9 del calcio cavallo Più della metà del primo tempo e c'è l'1-0 del calcio cavallo Molise Calisti Di Francesco Va al numero 14 Col destro Buonissima parata di Lembe Poi in qualche modo spazza la difesa del Gloriava Palla in avanti a cercare destra In qualche modo arriva l'assettata del Gloriava Ci prova! Col destro Trova l'1-1 Pareggio degli uomini in bagna viola Palla nel numero 77 A cercare qui Gallimi Calisti La torre del 1-1 Contro Ferrante Passa Calisti Ancora il numero 70 Verso la porta Che parata qui da parte di Lembe Per la squadra in bagna viola Si va da Calisti C'è Nesta fuori Contro la Nesta Col sinistro! Con deviazione Passa in vantaggio Il Gloriava Punto di battuta Questa volta c'è Moretti Insieme a Nesta Nesta se ne va E lascia Moretti col destro Può andare il 77 Verso la porta Moretti In qualche modo Lembe Poi bravo Ferrante A spazzare via Primo dell'arrivo di Calisti Gloriava Riparte Nesta Spinto qui da Salome Ma tiene benissimo Il numero 10 del Gloriava Ancora Nesta Col sinistro! Che bel gol E doppietta Per il numero 10 In maglia viola 87 Che tocca Troppe volte il pallone Allora di Francesco Intercetta due volte Va da Nesta Ancora il numero 10 Dribblich Nesta! Tripletta E fantastico tiro di destro 4 a 1 Per il Gloriava Martinelli Non trova Calisti Arriva Ferrante Bravo a farla sua Poi il Gloriava Arco Tenta la conclusione Molto lenta Palla che si spegne sul forno Primo squill In questo secondo tempo Anche per il calcone Davanti per Arco Sempre 77 Moretti Del Gloriava Qui con un dribbling Va Moretti Punta la difesa Prova ad andare da un compagno Arriva Nesta Che questa volta Incredibilmente Non riesce a segnare Finale Galimi A cercare Di Francesco Tacco per Nesta Tenta la 1-2 Di Francesco Poi ritorna Nesta Quarto gol Del numero 10 E partita Chiusa Prova ad andare Pasciulli in aria Con la trova Salope Va vicino al 5-2 Il calcio cavallo Si riparte Da Lemme Da Andrea Perde Palla Qui Calcio cavallo Prova a piazzarla Di Francesco Si distende Sulla sua sinistra Lemme Ed evita Il 6-14 Palla largata Da destra Pasciulli Numero numero 7 Arriva Calisti Col destro Calisti Raso terra 6-1 Per il Gloriava Acquisito Già sul 4-1 Di Nesta Arcò Il migliore Dei suoi Ma ancora il numero 9 In mezzo Per Salome Arriva Pasciulli Che mette dentro Il secondo gol Della partita Del calcio cavallo Fischia tre volte L'arbitro Il Gloriava Passa i sedicesimi Finale Di Coppa De Lega Batte 6-2 Il calcio cavallo Qui Si En Un 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 Un